segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te in tutto questo mi mettete la locandina di david che fa un spettacolo pazzesco a teatro dove sta grazie grazie va beh arriva eccola david parenzo ebreo ebreo al teatro parioli di roma e il 7 marzo questa è la foto di olivero toscani che mi ha regalato ma non sei tu quello lì però però la foto fa un un amico ebreo anche lui è prestato è un monologo scritto con valdo gamberutti ma ne pure david tanto parlava io la vado a vedere al teatro spedite anche voi c'è la voce di enrico mentana è anche solo voce che fa dio finalmente siamo arrivati all'apoteosi pubblicità